Ciao a tutti, oggi vedremo come dare a questa immagine una profondità di campo uno può avere una messa a fuoco del soggetto principale lasciando sfocato lo sfondo una cosa del genere per fare questo è necessario scaricare un plugin focus blur plugin che troviamo sul sito dell'autore una volta installato lo troviamo in filtri sfocature focus blur la cosa importante adesso è creare una mappa per la profondità per lasciare il primo piano non sfocato allora ci creiamo un nuovo livello facciamo con lo strumento sfumatura ci creiamo questa sfumatura poi ci dedichiamo a selezionare l'immagine principale e riempirla di nero ovvero una cosa del genere poi selezioniamo avremo praticamente una mappa tipo questa fondiamo insieme e otterremo la mappa che dobbiamo utilizzare con il filtro creiamo un nuovo livello per lasciare invariato l'originale e su questo potremo tranquillamente applicare il nostro filtro filtro rimostra focus blur le modalità di sfocatura sono queste lasciamo tranquillamente piatto praticamente avremo il nero non avremo nessuna sfocatura e qua applichiamo il raggio di sfocatura che vogliamo dare e qua inseriamo la nostra mappa di profondità diamo ok e abbiamo ottenuto l'effetto voluto semplice e efficace come sempre ciao da dopo grazie a tutti